V9 Revenge di Anvil Motociclette Fuori dal tempo in puro stile Anvil La Revenge sembra nuova e vissuta allo stesso tempo e si racconta in ogni particolare Gli ammortizzatori posteriori sono stati sostituiti con un modello di bitubo per esaltare il sapore vintage della moto La marmitta è stata rifatta completamente a mano dall'azienda Zard usando come materiale il titanio per ridurne notevolmente il peso La verniciatura utilizzata per colorare il blocco motore è uno speciale smalto raggrinzante nero impiegato anche da famose case automobilistiche di lusso L'impostazione da viaggio è ribadita da un assetto che favorisce posizioni di guida comode e che richiama i classici Sidecar anni 80 Sulla parte posteriore del Sidecar trova alloggiamento un cestino da picnic con all'interno un kit da gentleman Un piccolo optional che potrà tornare utile sia durante le gite di coppia sia da soli Grazie a tutti